I primi risultati erano già presenti nel 2017 ma in grande spolvero il 2018 che ha oggettivamente raccolto un lavoro lungo e appassionato che tutta la Giunta ha svolto negli anni precedenti e anche in quest'anno, in tutti i settori che l'amministrazione ha il dovere di occuparsi. Dal turismo alla cultura, dalla sicurezza alla manutenzione e al sociale, il 2018 è stato definito l'anno chiave dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli che assieme alla Giunta ha tracciato il bilancio di questo ultimo anno. Comincio dal primo la cultura che ha avuto una grande annata veramente sia dal punto di vista dell'attività musicale, sapete quanto io sia legata alla declinazione di Arezzo città della musica, sia per quanto riguarda le attività espositive, la mostra di Manara con due quadri, uno dei quali di Caravaggio originale, ma anche e soprattutto forse la grandissima mostra di Gustavo Aseves che ha riempito la città di monumenti equestri bellissimi. Ma anche, non posso dimenticarlo, forse l'elemento da un punto di vista sistemico più importante di tutti è la nascita della Fondazione Arezzo in Tour e la modifica della Fondazione Guido d'Arezzo in una fondazione multiculturale che offre tutta la parte culturale che una volta era offerta dal Comune. Quindi un modo di lavorare diverso che ha portato grandi risultati. Grandi lavori in partenza con un grosso lavoro di progettazione nel 2018, nonostante i rallentamenti che i vari emendamenti alle leggi dello Stato e soprattutto al bando periferia avevano posto nel mese di agosto, ma un po' di tempo l'abbiamo perso, ma non la volontà di andare avanti su un percorso di rinnovamento importante della città e di quelle parti di città che più ne hanno bisogno, che sono le periferie che hanno subito negli anni un degrado. Altrettanto, dicasi per l'attività urbanistica, l'affidamento dell'incarico, i primi passi nella redazione dei nuovi strumenti urbanistici e la condivisione con la cittadinanza con un percorso partecipativo ormai concluso. E poi i grandi eventi, Arezzo Città del Natale, la Mille Miglia, i 50 anni della Fiera. Diciamo che questa città, secondo me, nel 2018 si è definitivamente risvegliata. Gli obiettivi c'era anche quello di una maggior sicurezza, l'hai detto dei passi avanti sono stati fatti? I passi avanti sono stati fatti, ancora ne dobbiamo fare, però le condizioni di sicurezza sono nettamente migliorate e anche quelle di degrado urbano. Ci rimane l'ultimo residuo sul Pionta sul quale stiamo lavorando. Già è stato fatto tanto, ma ancora dobbiamo lavorarci. Altro capitolo è quello che riguarda Arezzo Fieri e Congressi. Dopo le dimissioni di tre consiglieri su cinque, uno di questi rappresentava il comune di Arezzo, i soci pubblici al termine di una riunione avrebbero trovato un'unità di intenti. Qualunque cosa accada, nelle prossime ore, nei prossimi giorni porterà comunque la firma di comune, provincia, camera di commercio e regione, soprattutto, che ha il 40% di quote.